Benvenuti a Felitto, alle gole del calore, nel Parco Nazionale del Cilendo, Valdiano e Alburni. Siamo in compagnia di Davide, un promotore turistico, e Mattia. Siamo un gruppo di ragazzi che stiamo promuovendo le bellezze del nostro paese e del nostro territorio. Siamo proprio immersi all'interno delle gole del calore. Le gole del calore sono lunghe circa 8 chilometri dal ponte medievale di Magliano al ponte medievale di Felitto. Ora ci troviamo a bordo del pedalò, una delle attività che si svolgono a Felitto, all'interno sul fiume calore. Stiamo attraversando la quarta gola. La quarta gola è resa navigabile grazie a una vecchia diga di smessa del 1912. Serviva alla produzione di energia elettrica. Ora è in disuso. È dal 1999 che noi la sfruttiamo facendo dei tour in pedalò oppure dando la possibilità di noleggiare la canoa per circa 30 minuti e per un tratto di 600 metri. Con che servizi offriamo? Abbiamo dei campeggi, picnic, possiamo dare la possibilità di poter prenotare un tavolo per fare una scampagnata all'aperto. Oppure fare delle bellissime passeggiate. Abbiamo una centriaristica. Abbiamo tanti sentieri dove poter passeggiare, fare trekking. Mi raccomando, venite in Cilento. Non potete non visitare le gore del calore. Un'ottima occasione per restare freschi, divertirsi e godersi un fantastico posto in mezzo alla natura. Grazie a tutti.